L'unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana in occasione della rassegna autunno in Barbagia che ha preso il via a settembre e che coinvolge 32 comuni del Nurese invita e ricorda i cittadini impegnati a somministrare carne e salume ai visitatori di utilizzare prodotti certificati di provenienza sicura per tutelare la salute delle persone e per contribuire al contrasto della peste suina tutti i prodotti utilizzati nei punti di ristoro o di vendita devono arrivare da allevamenti regolari e sicuri dove gli animali sono sottoposti ai dovuti controlli igienico-sanitari ha ricordato Daniela Mulas, veterinaria e componente dell'unità di progetto la vera valorizzazione delle nostre carni e dei salumi parte da quelle aziende che rispettando le norme sulle buone pratiche dell'allevamento assicurano ai consumatori i prodotti salubri di elevata qualità mettere in circolazione alimenti derivanti da condizioni di legalità e quindi di macellazione clandestina non sottoposta a verifica veterinaria mette a serio rischio la salute dei cittadini un esempio fra tutti passa per il parassita della trichinella che una volta ingerito attraverso carni o salumi non controllati può causare in casi estremi il decesso l'unità di progetto ricorda che in tutti gli appuntamenti in programma per autunno in Barbagia saranno presenti i veterinari dell'ATS per le necessarie verifiche di routine questo monitoraggio si inserisce nel programma di controlli operati nelle diverse sagre organizzate in Sardegna nei porti dell'isola, tra i passeggeri in transito, negli agriturismi e nei banchetti organizzati o negli allevamenti, nei punti di trasformazione e vendita di carni e derivati un impegno a 360 gradi che l'unità di progetto continua a garantire in vista della prossima e definitiva eradicazione della peste suina africana Grazie a tutti